benvenuti sul canale amici io sono denis oggi sono qua tra le colline nel triangolo tra cecina casale marittimo e monte scudaio per la solita camminata un po per allenarsi un po per testare lo zaino di surplus svizzero e mentre camminavo mi sono imbattuto in qualcosa che ieri quando sono passato non c'era ossia il resti il pasto nudo del lupo date le dimensioni credo che si tratti di un giovane un giovane capriolo probabilmente da ipotizzare che sia sceso da là è un percorso che fanno abbastanza si vede che c'è uno schiacciamento della terra dove passano frequentemente per poi camminare lungo questa recinzione che divide un terreno privato e risalire lungo un altro camminamento fronte sceso si trovato qua nell'angolo e i lupi sono riusciti a sopra a farlo adesso a me ha un po colpito il fatto che appunto abbiano mangiato solo una parte dell'animale forse perché con la testa è finito al di sotto di questo trave diagonale e non sono poi riusciti a rigirarlo vedete manca tutta la parte che copre il costato il collo l'addome hanno lasciato la zampa anche quella dal lato verso il cielo quella sopra mentre è sparito il codino come vi dicevo ieri non c'era che i lupi ci sono nella zona e cosa le saputa lo sanno gli allevatori lo sanno chi ha le fattorie qua in zona anche agri turismo chi lavora qui io li ho ripresi alcuni mesi fa con la con la fototrappola e ogni tanto sono le tracce questa fotografia che avete a fianco l'ho fatta proprio pochi pochi minuti fa il terreno era dura non sono riuscito a trovare altre a volte dopo la pioggia il terreno più morbido e si trova più la striscia di la striscia di impronte tutte in fila quindi appunto non è una novità che ci sia nei lupi perché però questo video perché questa zona è abbastanza frequentata prima ho incontrato un ragazzo in mountain bike ieri c'era un signore che correva una coppietta vicino al lago linalia che qua sotto qui sotto corre il fosso linalia a 500 metri da qui c'è la provinciale per casale marittimo ma il problema non sono le persone perché statisticamente attacchi del lupo alle persone non se ne contano se non quando l'umano si mette di mezzo per difendere il proprio animale e è qua vogliamo arrivare perché qui appunto la zona è frequentata scusate e non è raro trovare persone che viaggiano con i propri cani di grande o piccola taglia liberi e se il cane incontra il lupo il cane e rischia di fare quella fine lì e se l'umano si mette in mezzo per difenderlo rischia di farsi far male dal lupo quindi veniamo continuiamo a venire in queste zone perché sono zone belle e ci sono i caprioli come forse i suoi genitori ci sono i cinghiali ci sono le volpi c'è anche il lupo quindi continuiamo a venirci a frequentare tranquilli ma i cani teniamo nel guindaglio alla prossima